Auguri alla signora Tantella e buon lavoro. Noi abbiamo fatto tanto, io sono sceso in campo insieme agli amici del PD. Abbiamo lavorato molto, però i calabresi hanno scelto praticamente la coalizione di centrodestra. Hanno scelto un partito di conservatori, non hanno voluto, non hanno creduto, non hanno voluto in una rivoluzione, in un cambiamento che io vi ho promesso di fare. Noi, siccome siamo una terra democratica, accettiamo questa decisione e faremo la nostra opposizione. Grazie.